Allora, Fenn a Molinedo. Fenn è il cognome? Pong. Tu sei Malesia, però ormai sei naturalizzata sarda italiana. Da quanto tempo? Tanto, 14 anni. E tu che tipo di lavori fai? Allora, io sono casalinga. Poi faccio ricamo come per hobby e questo è il mio lavoro. E qui a Molinedo è la prima volta che esponi? Sì, sì, è la prima volta. Poi faccio anche gli altri mostri da qualche parte, non qua. Che cosa ti piace ricamare? Che cosa ti piace riprodurre? Allora, a me piace molto molto personaggio, poi astratti, però principalmente visi, facce, personaggi, di pace. Persona di fantasia? No, non tanto perché io vedo da una rivista e poi da lì, se mi piace quella faccia, quel vuoto lì, allora comincio a programmare dei miei progetti, dei disegni. Ecco, per esempio, un lavoro esposto qui in quanto tempo lo fai? Perché fai tutto a mano, tu fai? Sì, sì. L'unica cosa è quadro, faccio con una macchina di cucire. Poi il resto con la mano. Ecco, vabbè, diciamo, una di queste opere, quanto tempo? Una giornata, due? Sì, sì. Minimo, diciamo, tre giorni, quattro giorni, così poi vedo un po' se devo ritoccare tutto, allora ci metto un pochino di più, però tutto sommato meno una settimana. Poi, se ci sono quelle più elaborate, ci vuole più tempo, tutto lì. Salutaci con la tua lingua materna. Allora, come stai? Un arrivederci. Arrivederci. Ciao, addio. No, addio no. No, non c'è, veramente. Un buon augurio per l'arte. Per l'arte, come posso dire. Beh, non mi viene veramente. Sì, non c'è. Non ti ricordi più la tua lingua? Sì, va bene. Ciao, come si dice? Ciao. Quando vede una persona, come la saluti? Allora, dipende, in cinese. No, ma in malese cosa si parla? In malese non c'è veramente. Un buongiorno? Un buongiorno, non c'è veramente. Buongiorno sì, salama paghi. Salama paghi, sì.